18 maggio come data sospirata e tanto attesa con la fine del lockdown per Barge, Laterie e Ristoranti, uno dei settori più colpiti dall'emergenza e allo stesso tempo più amato dagli italiani. Da lunedì prossimo dunque non solo asporto o consegne a domicilio ma ritorno ad una parziale normalità con la possibilità di accogliere finalmente i clienti nelle strutture. Capienze ridotte, distanze prestabilite, dispenser e igienizzanti obbligatori, mascherine per il personale di sala e cucina, prenotazione obbligatoria. Sono solo queste alcune delle nuove regole suggerite dai tecnici dell'INAIL e dagli scienziati dell'Istituto Superiore di Sanità appunto per la riapertura di bar e ristoranti con i gestori alle prese con gli adattamenti di rito. Ovviamente si stanno predisponendo tavoli all'aperto per chi ne ha la possibilità, si tratta comunque di un segnale di speranza. Proviamo, abbiamo lo spirito, la voglia e l'entusiasmo di ricominciare, di ripartire e di cercare di ritrovare quel contatto piacevole che abbiamo sempre avuto con i nostri clienti, clienti che amiamo tanto e che in questo periodo ci stanno mancando veramente tantissimo. Lunedì sì effettivamente è vicinissimo, stiamo ripartendo con la sanificazione del locale, di tutte e tre le aree, noi fortunatamente abbiamo un locale abbastanza grande con l'area interna, la sala interna e la sala esterna, quindi fortunatamente molti clienti vorranno anche per le temperature che sono tipicamente ormai estive stare esternamente, ovviamente adottando tutte le misure del distanziamento, igienizzante per mani, mascherine, guanti e quant'altro, a partire dalle sale fino arrivare ai bagni, alla cucina, agli spogliatoi. Speriamo in una riapertura con i clienti che verranno ad omaggiarci e noi ad omaggiare loro allo stesso tempo.